Quanti sono gli agrofarmaci attualmente in commercio che potresti utilizzare in agricoltura? Circa 4.000, circa 3.000 o circa 2.000? La risposta esatta è la C. Esattamente sono 1.990 gli agrofarmaci che tu oggi puoi consigliare ai tuoi clienti. Ma come fai per scegliere e consigliare quello giusto in funzione delle colture e delle avversità dei tuoi clienti? Come puoi scoprire in anticipo quali sono i prodotti in scadenza? Come sai esattamente se un prodotto è già stato revocato o è scaduto? Sono Ivano Valmori, fondatore di ImageLine e ideatore del servizio Fitogest Plus, la banca dati degli agrofarmaci costantemente aggiornata e che giorno per giorno ti aiuta a consigliare ai tuoi clienti quali sono le soluzioni più adatte in funzione delle tecniche di difesa che vuole adottare sulle proprie colture. Tutto questo attraverso 4 specifiche funzionalità disponibili all'interno di Fitogest Plus. La prima funzionalità è la ricerca avanzata attraverso la quale Fitogest Plus ti permette di andare a cercare nella banca dati e di individuare esattamente il prodotto che soddisfa le tue esigenze senza che tu neanche debba leggere l'etichetta ma sfruttando tutte le informazioni che sono già disponibili nella banca dati. La seconda funzionalità è lo scadenziario. Attraverso questa funzione Fitogest Plus ti permette di sapere in anticipo quali sono i prodotti che stanno per scadere e ti permette di tenere costantemente sotto controllo il tuo magazzino. Tutto questo attraverso un'interfaccia molto semplice ed estremamente chiara. La terza funzione è quella relativa ai prodotti revocati. Grazie a Fitogest Plus riesci a fare una ricerca storica su tutti i prodotti eventualmente rimasti in magazzino e sapere esattamente se e quando sono scaduti o sono stati revocati ed avere tutte le informazioni di legge che ti permettono di procedere al loro corretto smaltimento. La quarta funzionalità è il consiglio tecnico che ti permette di compilare ed inviare direttamente al tuo cliente un vero e proprio consiglio tecnico che non si limita a dare informazioni sul prodotto da utilizzare ma gli fornisce direttamente informazioni sulle dosi di impiego contro quella specifica avversità, gli dice quanto complessivamente gliene serve in funzione degli ettari della sua cultura e arriva addirittura ad integrarsi con i dati meteorologici elaborati dall'aeronautica militare che permettono di eseguire al meglio la difesa integrata delle culture. Buon lavoro con Fitogest Plus. Ciao!